Se è una tranquilla serata sulla spiaggia e la tua ex all'improvviso sbocata dal nulla si presenta con una storia sul suo attuale fidanzato imprenditore immobiliare miliardario e la moglie di lui e l'amante di lei e un complotto per rapire il miliardario e rinchiuderlo in manicomio Mi serve il tuo aiuto, Doc. Ti conviene guardare dall'altra parte? Ma se tu sei Doc, le cose potrebbero diventare un tantino bizzarre dopo. Michael Z. Wolfman Mickey Wolfman Mickey Wolfman È sparito. Quindi dove potrei trovarlo? Tecnicamente è ebreo, ma vuole essere nazista. E una ragazza non vuole avere delle difficoltà con quella gente. Ma hai una foto in più da prestarmi. Beh, forse te la passi meglio con i nazisti. Cavolo! Stai bene? Sto bene? Allora? Di solito siamo noi quelli che fanno le domande. E la vostra domanda è da che parte sto? Bella domanda. Risposta sbagliata. Cioto! Kinichiro! Doso! Moto! Panekeku! Moto! Panekeku! Venga! Moto! Panekeku! Hai! Hai! Accorda! Hai! Bara! Hai! Ti ho colpito? Doc non sarà di certo un buonista, ma ha fatto del bene. Buona fortuna, Doc! What a wonderful world this would be! Lui, come va! Adesso... Grazie a tutti.